Mi fa piacere che il ponte sia condiviso da tutti, il tema serio... No, è che siamo venuti dalla Polemo Catania, ci sentiamo tre ore... L'abbiamo detto a Roma, l'abbiamo detto... Abbiamo pagato il casello in sei stessi, però volevo rassicurare tutti, si fa prima fare Palermo Catania che attraversare il viale regione siciliana in Palermo. La Sicilia che rinasce, la Sicilia che torna a vivere, è la Sicilia che ha la vocazione al turismo, il merito naturalmente del nostro assessore al turismo, Maglio Messina che ha lavorato con grande impegno, Taubuk grazie ad Antonella Ferrara è diventata una rassegna di valenza internazionale sostenuta dalla regione siciliana e da questo governo.